Il mattino Il fattore ambientale incide molto, incide molto Anfield per loro e domani spero possa incidere il San Paolo per noi nella stessa maniera. Devo dire che l'ambiente che abbiamo trovato nella partita con San Doria è stato un ambiente molto positivo e sono certo che domani sarà lo stesso. Speriamo di essere all'altezza. Il fatto che il Liverpool si è d'accordo che fuori è meno... Certamente sì, anche se l'anno scorso paradossalmente hanno perso tutte e tre le partite che hanno giocato nel gruppo, sono riusciti a passare grazie alla prolificità in casa. Credo che rispetto all'anno scorso il Liverpool per quello che dicevo prima ha fatto dei miglioramenti e credo che sono molto più solidi e molto più attenti rispetto a un anno fa nelle partite fuori casa.